eccoci qua benvenuti a tutti sul mio canale allora io spero che abbiate passato un buon capodanno spero che avete iniziato al meglio allora questo è il primo video di questo anno nuovo e io ho deciso di fare una domanda che anche anche questa domanda mi è stata posta nei commenti la domanda e per i single come sarà la persona che che arriverà prossimamente quindi il prossimo fidanzato che ho la fidanzata la persona che incontreremo nel una nuova storia diciamo ok allora andiamo subito a mischiare le carte allora quindi per le persone che guarderanno questo video andremo a chiedere come sarà un nuovo amore quindi che caratteristiche avrà questa nuova persona con cui avranno una storia come sarà questa persona che incontrerete ok allora io come sempre vado a oggi mettiamo le pietre allora sul primo mazzetto vado a mettere questa qui viola spero che si veda bene il primo alla metista il secondo al cristallo è il terzo al quarzo rosa ok allora se volete potete stoppare il video andiamo subito a vedere i risponsi delle carte iniziamo con la prima quindi con la metista alla domanda come sarà la nuova persona che incontrerò con cui avrò una relazione probabilmente una persona che non conoscete ancora wow sono bellissime allora per chi ha scelto il mazzetto 1 quindi la metista posso dire da quel che vedo che è una persona sicuramente castana ok quindi castana di capelli castano chiaro castano scuro comunque castano o castana se siete uomini guardate il video e devo dire che allora o non la conoscete ancora quindi è una persona proprio totalmente nuova potrebbe anche essere una persona comunque magari che arriva da un'altra città quindi vi faccio un esempio magari qualcuno che ha subito un trasferimento lavorativo o che magari non è nata nel posto dove vive adesso ok oppure potrebbe anche essere un qualcuno che magari viaggia si sposta o comunque fa un lavoro dove dove in movimento dove si sposta però comunque la vedo una situazione veramente positiva perché qui c'è proprio la carta della quotidianità mi parla proprio di una persona che vuole costruire qualcosa una persona che oltre a essere una persona positiva con il quale si può anche dialogare bene proprio pensare di costruire una coppia infatti penso che ci sia proprio una coppia poi con questa persona qui lo vedo gentile si può parlare si può è proprio completo ok quindi è anche un amico è una persona la vedo dolce proprio affettuosa quindi è una relazione veramente completa ok le carte mi parlano di quotidianità di gentilezza di amore di coppia di fedeltà e io penso che per chi ha scelto il mazzetto numero uno assolutamente sarà una proprio come quando hai una notizia un arcobaleno ecco lo definirei un arcobaleno dopo tante tante delusioni o tanta sfortuna tra virgolette è come se proprio i gli ostacoli le difficoltà con questa persona diciamo potete accantonarli perché io vedo una relazione veramente molto 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 bella e positiva ok sono contenta allora primo mazzetto è andato adesso andiamo a vedere il secondo mazzetto quindi quello con il cristallo di rocca qui a differenza di quello di prima devo dire che è più chiaro quindi è una persona bionda 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 o proprio chiara la vedo proprio chiara pallido mentre quello di prima era un tipo un po più mediterraneo questo è un po più chiaro biondo proprio allora allora questa secondo me è una relazione che parte sia da parte di lui che da parte vostra probabilmente ci sono state sicuramente delle difficoltà in passato quindi è come se comunque dovete conoscervi bene e dovete comunque anche mettere un po da parte le vostre paure perché vi vedo entrambi un po in difficoltà ad aprirvi proprio a parlare con cuore quindi penso che sia una relazione che inizia pian pianino proprio appunto per le esperienze passate devo dire che lui è una persona sicuramente con una buona posizione lavorativa una persona anche molto passionale da quello che vedo lui o lei naturalmente il secondo mazzetto vedo una persona chiara come dicevo prima quindi secondo me biondino altro sì appunto le difficoltà che ci sono state in passato un po a entrambi devo dire che ma anche a lui soprattutto a lui magari viene da una separazione o comunque ha avuto delle sofferenze in passato e vi vedo entrambi un pochino che andate con i piedi di piombo ok però devo dire che anche qua è una è una persona positiva la vedo solo un po più lenta come cosa nel mazzetto numero uno era una cosa molto progetto di coppia di quotidianità molto più veloce invece nel secondo mazzetto vedo un po come un conoscersi piano piano un fidarsi piano piano e poi comunque la storia decolla io la vedo una storia positiva e anche molto passionale ok è una persona anche che vi osserva molto eh devo dire che osserva molto il vostro pensiero quindi magari appunto perché deve capire come siete deve capire se si può fidare o meno quando parlate quando esprimete il vostro punto di vista vedo che osserva molto e poi magari ci ragiona su ok poi terzo mazzetto quarzo rosa piccolissimo allora vediamo un po' come sarà la persona con cui avrò una nuova relazione terzo mazzetto allora questa è una persona secondo me diversa da quelle che voi avete avuto in passato è una storia positiva eh io penso che sinceramente capirete che veramente è una persona importante che vi state innamorando pensate veramente di innamorarvi secondo me anche con stupore perché secondo me magari non è quel genere di persona che classico no tutti siamo magari abbiamo un come si dice un ideale di persona che ci può piacere questa secondo me è una persona un po' diversa che però ci stupirà assolutamente infatti mi esce proprio che è completamente diverso rispetto o diversa alle persone con cui avete avuto a che fare nel passato è di tutta un'altra pasta e c'è proprio un cambiamento un nuovo inizio io anche questa la vedo una storia felice positiva e come se anche in questa storia c'è una rinascita anche qui dopo diciamo che proprio vi stupirà perché appunto non è una persona che magari diciamo se vai al bar o vai in discoteca non è proprio quello con cui metti gli occhi punti gli occhi è una persona diversa e secondo me vi stupisce nel tempo con i modi di fare con i modi di pensare vi rende felici e quindi c'è proprio la carta dell'amore e c'è proprio la carta del del ritorno della felicità ok quindi bocca al lupo a tutti voi e io vi ricordo sempre la mia pagina facebook che si chiama come il canale youtube quindi luce cartomante carte napoletane poi il mio numero di telefono per chi volesse un consulto personalizzato con me privato mi può scrivere su whatsapp 348 90 37 862 poi oggi visto che è la prima stesura dell'anno la prima stesa vi voglio lasciare un messaggio angelico perché stamattina l'ho pubblicato anche sulla mia pagina devo dire che con le carte napoletane vedo anche un po' il messaggio degli angeli è come se se ti parlano no è normale che sia così e se volete seguirmi giovedì pubblicherò i responsi allora voglio pescare per voi una carta angelica ho queste qua che sono fantastiche le carte vediamo se si vede le carte guida guida quotidiana degli angeli di Dora in Virtue fantastico allora peschiamo una carta degli angeli vediamo il messaggio che vi vogliono lasciare visto che oggi è il primo gennaio allora lascia andare e affidati agli angeli fantastica ve la faccio vedere ve la leggo eh perché naturalmente la vedo dura che leggete perché si vede male allora lascia andare e affidati agli angeli noi ti offriamo i doni del nostro amore radioso apri le braccia e lascia andare tutte le difficoltà che finora hai tenuto strette tra le mani apri le mani le braccia e il cuore al nostro amore e alla nostra assistenza fantastica secondo me come carta del primo gennaio 2019 non poteva essercene una più bella veramente ragazzi ancora tantissimi auguri di un buon inizio che questo 2019 porti veramente tanti desideri realizzati tanta salute tanta gioia e io vi saluto e vi ringrazio tantissimo perché siete veramente in tantissimi e vi aspetto al prossimo video che farò presto un abbraccio luce